Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e oggi torniamo a parlare dell'alta tensione in Medio Oriente, proprio insieme al corrispondente dell'Ansa per il Medio Oriente, Lorenzo Trombetta. Bentornato a Radio SBS. Ben trovati, grazie. Per voi è mercoledì sera ed è la vigilia di questi colloqui che dovrebbero riprendere a Doha giovedì, proprio per cercare di tamponare la tensione salita alle stelle nell'ultima settimana. Innanzitutto che cosa si può prevedere rispetto a questi colloqui? Chi parteciperà? Dovrebbero partecipare tutti gli attori che finora hanno partecipato agli altri tavoli dei negoziati, tranne Hamas. Almeno formalmente Hamas non sembra partecipare, in qualche modo per mostrare un'opposizione dopo l'uccisione mirata di Ismail Haniyeh a Teheran, in Iran, ma sappiamo che l'interlocutore principale di Hamas, il Qatar, che ospita i colloqui, è probabile quindi che nonostante l'assenza fisica normale di Hamas, in realtà le istanti di Hamas e quindi anche quelle del cosiddetto AS della resistenza guidato all'Iran, siano ben rappresentate. Se no, in qualche modo sarebbero dei colloqui senza la controparte e questo evidentemente non è nell'interesse di nessuno, almeno in questo momento. Secondo quanto trapelato, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non vorrebbe transigere sul punto della liberazione di 33 ostaggi vivi. Che cosa si sa in proposito? Non si ha saputo nulla di concreto su questo perché Hamas, una delle carte negoziali più forti, o quelle che ritiene essere più forti, è proprio la segretezza rispetto allo stato di salute, la presenza, il numero degli ostaggi, sia civili che militari. Questo fa parte sia della guerra psicologica che del tentativo di mostrarsi con delle capacità negoziali maggiori rispetto alla controparte. Quindi è possibile che innanzitutto questo giro di nuovi negoziati non porterà a un accordo immediato, anche perché le condizioni poste da Netanyahu sono quelle che conosciamo da tempo, ma non sono necessariamente accettate da Hamas e dagli attori che poi sostengono Hamas. Ma poi anche se si dovesse entrare nel merito effettivamente del numero degli ostaggi e del tipo di ritirata israeliana e del rilascio eventuale di prigionieri palestinesi eccellenti come Baruti, cui si fa tanto il nome in questi giorni, se si dovesse entrare negli aspetti più tecnici non è detto poi che le parti possano rispettare i termini di questi negoziati che oggi come oggi sembrano preliminari dopo tutto quello che è successo. Quindi andrei con i piedi di piombo rispetto all'ottimismo che ci può essere anche alle previsioni sul numero di ostaggi da liberare sulla controparte, la controofferta israeliana. Poi tutto può succedere, però stando così le cose credo che ne avremmo da ascoltare di molta risposta negoziali e non negoziali ancora per qualche settimana almeno. Lorenzo, tu sei basato per lo più proprio in Libano, altro attore importante di questa crisi che appunto si è innescata a partire da ottobre dell'anno scorso, è arrivata ormai al decimo mese. Qual è la situazione nel paese in questo momento e soprattutto continuano anche le scaramucce, se possiamo chiamarle così, tra Israele e Libano? Sì, tra Israele e Hasbola, Hasbola e il movimento armato libanese che fa parte di tutto l'asse della resistenza anti-israeliana in Medio Oriente collegato molto fortemente all'Iran, i botte a risposta militari proseguono dall'8 ottobre scorso con un innalzamento dell'attenzione anche della violenza e quindi anche delle vittime, soprattutto sul lato libanese a causa dei raid di artiglieri, aerei israeliani continuano ogni giorno, più che scaramucce si può parlare anche di guerra vera e propria, alcuni parlano di guerra a bassa intensità, comunque in termini di numeri di sfollati, parliamo di circa 100 mila sfollati del Libano e 60-70 mila dal nord di Israele, la quantità di armi usate, l'impegno militare di Hasbola da una parte e di Israele dall'altra, sono tutti dati che indicano l'esistenza di una vera e propria guerra che va avanti da 10 mesi, come ricordavate voi. Il Libano come stato in realtà non è molto presente o è presente come sostegno alla causa di Hasbola. Poi ricordiamo che il paese, che ha una superficie più o meno grande quanto quella della regione italiana Abruzzo, vive da ormai 5 anni in una crisi finanziaria senza precedenti nella sua storia, con una economia disastrata e con un aumento impressionante della povertà nel paese, specialmente nelle zone più periferiche, rurali, comunque non nella Beirut, cosiddetta bene. Questo fa sì che il Libano soffre particolarmente una situazione di stallo causato dalla guerra, che sebbene sia in qualche modo contenuta nelle regioni meridionali, in alcuni casi anche nella valle della Bekaa e nella periferia sud di Beirut, la roccaforte di Hasbola, nonostante la guerra in sé, la guerra guerreggiata sia contenuta soltanto in alcune aree geografiche, europee, però comunque causa delle ripercussioni adottive rispetto alla crisi economica che già ha devastato il paese. Pensiamo soltanto che in questo stato doveva arrivare numerosi cittadini della diaspora libanese in giro per il mondo, portando dollari, quindi valuta pesante che avrebbe in qualche modo aiutato l'economia informale, sempre più dollarizzata in un paese dove la valuta locale è ormai carta straccia dal 2019, a causa dei timori di una guerra, della stessa guerra psicologica alimentata anche dagli stessi media occidentali che hanno fino a poche ore fa parlato di un rischio imminente, di una guerra su larga scala, tutto questo ha fatto sì che moltissimi libanesi non sono rientrati in estate in Libano, moltissime compagnie aeree occidentali hanno cancellato, sospeso, almeno lo faranno fino ai prossimi giorni i loro voli, questo per la cronaca più stretta ha aumentato in qualche modo le sofferenze degli libanesi che poi come in ogni area del mondo sono abituati, ci si abitua al peggio e ci si abitua anche a stare in un contesto di vulnerabilità, precarietà, quindi è un paese poi dall'altra parte che continua a vivere e a riorganizzare la propria economia e politica ovviamente in maniera esclusiva, non sicuramente inclusiva, aumentando l'ivalio tra chi ha moltissimi soldi, chi accumula tantissimo capitale e chi invece fa sempre peggio, però se si va in un bar di Beirut o in una piscina fuori dalla capitale in realtà si potrebbe anche scorgere un'estate normalissima come magari ce ne sono tantissime in altre città del Mediterraneo, bisogna sempre guardare il paese con uno sguardo da diverse prospettive e non farsi ingannare dalle cartoline che ci possono arrivare sia dalla piscina che dal fronte di guerra, però tutte queste realtà coesistono e coesistono anche tante zone grigie come avviene nella nostra complessità, la vostra in Australia e la nostra in Italia. Citavi appunto il fatto che molti cittadini che risiedono in altri paesi non sono tornati, alcuni hanno ricevuto la richiesta dai loro governi, insomma dei paesi in cui vivono di ritornare, l'Australia anche ha fatto questo appello ai cittadini australiani che si trovano in Libano a ritornare. Parlavi della povertà molto diffusa in Libano, infatti un rapporto della Banca Mondiale cita al fatto che il 44% della popolazione libanese vive in povertà. Si tratta quindi di una situazione molto difficile e sarebbe nell'interesse del Libano scongiurare una guerra più ampia. Qual è il ruolo in questo momento del paese a livello diplomatico proprio per scongiurare questo allargarsi del conflitto? Beh innanzitutto un piccolo commento sui dati della Banca Mondiale, ma in generale sui dati che vengono forniti dalle organizzazioni internazionali di stampo occidentale che si fondano sull'idea che in ogni paese c'è un ente della statistica e i dati che emergono sono quelli reali. In realtà in un paese come il Libano con un'economia molto informale, anche se il termine informale ovviamente è soggettivo, ma quello che noi consideriamo formale è per esempio tutto il flusso di denaro tracciabile per le banche, per tutto quello che sappiamo, magari in contesto dove lo Stato e le istituzioni funzionano come funzionano in Nord America, in Australia o in Europa centrosettenzionale. Tutto questo non è sempre applicabile a un contesto come quello libanese e anche in altri contesti militerranei, per cui questi dati sulla povertà sono appiaccianti se li leggiamo in maniera così neutra, più contestualizzata, in realtà poi se andiamo a vedere quello che si muove sotto, che non è tracciato e quindi non rientra nella raccolta dei dati della Banca Mondiale o delle Nazioni Unite, racconta una fotografia assai più sfumata, per cui sebbene quella famiglia risulti povera sulla carta come risulterebbe in Australia o in Italia, in realtà poi quella famiglia riceve dalla diaspora delle rimesse in maniera non tracciabile o riceve altri tipi di aiuti dal partito locale o dal movimento confessionale religioso, anche questi non tracciabili, per cui in realtà poi troviamo una situazione che non combacia con i dati che abbiamo appena letto sul giornale che sono stati riportati alla Banca Mondiale, per cui in qualche modo bisogna sempre, sebbene siano comunque dei dati che destano preoccupazione, ma cercare di immaginarci un contesto più complesso anche nel modo in cui si fotografa una situazione, se no non si capisce come mai un Libano da 5 anni sopravvive a un default economico che è assai più grave di quello dell'Argentina o della Grecia degli ultimi 20 anni, cito dei tempi più clamorosi ovviamente. Per quanto riguarda la domanda sul ruolo diplomatico, anche qui il Libano inteso come stato nazione che ha un Parlamento, un governo, un ministro degli esteri, sostanzialmente segue la politica estera, in questo caso del movimento armato che più in qualche modo è vicino all'Iran, che ha un interesse sia locale, localissimo, interlibanese, sia libanese, sia regionale, di mandare avanti un progetto politico, culturale, militare di resistenza alla presenza dello Stato ebraico. Su questo lo Stato libanese non riesce ad articolare una risposta in quanto Stato, ma è per alcuni ostaggio, per altri è virtuosamente ispirato da un progetto che è sovrastatale come quello di Shusbollah e che trova il consenso anche di altri attori libanesi, sia ben chiaro, ma trova anche l'opposizione di altri attori sempre libanesi che invece sono più vicini politicamente e culturalmente magari a progetti cittadunitensi, francesi, britannici, israeliani e a proposito dei paesi che hanno diramato l'allarme con i cittadini di lasciare il Libano, di non recarsi proprio in Libano, sono guarda caso se guardiamo la mappa di questi paesi, tutti i paesi che hanno ottime relazioni con Israele o che addirittura difendono l'interesse di Israele nell'area e secondo me quegli allarmi che peraltro per esempio l'Italia non si è accodata a quest'allarmismo, sono stati anche enfatizzati alla necessità del sistema che sostiene Israele e il Medio Oriente per alimentare la guerra psicologica e il Libano e far sì che i titani stessi vivessero ore, giorni, settimane di grande incertezza. Qualche modo se non si può fare la guerra si parla moltissimo della guerra, si evoca moltissimo della guerra e questo comunque costituisce un danno e spera che la popolazione di Benito in qualche modo possa ribellarsi a Hezbollah e in qualche modo indebolire il partito di Dio. Questo per ora non è avvenuto, almeno forse non è avvenuto in maniera evidente, però credo che gli allarmi delle ambasciate dei vari paesi che evidentemente lo spengono Israele dalla nascita allo Stato ebraico, siano restati visitati anche dalla necessità di impaurire molto e di sperare di indebolire l'asse del cosiddetto della resistenza. Grazie allora per il momento e buon lavoro, ci risentiremo prossimamente qui sulle frequenze di Radio SBS. Grazie a voi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.